Accolto da un delirante applauso del pubblico ha fatto la sua comparsa al centro della palestra la cintura nera di un nero cupo Yaguru Kane e adonta del suo curioso cognome giapponese è un oriondo italiano Questa sera il campione si batte in onore della famosa danzatrice Karamushushini che i petevolizzi dei rotokauti vogliono sia la fidanzata segreta del celebre Yaguru Kane Ma ecco inizia l'incontro! Fantastico, fantastico! Yaguru ha stritolato letteralmente il suo avversario solo dopo 5 secondi